E' stata rimossa la rete di protezione che qualche tempo fa era stata posizionata nella sala del Consiglio Comunale con uno scopo ben preciso e per una ragione particolare che ha a che fare con la struttura stessa del palazzo e con una caratteristica specifica della sala. Procediamo con ordine partendo da quest'ultimo dato. Questo meraviglioso soffitto che appare diciamo come un legno intarsiato, intagliato, in verità è un lavoro fatto in stucco. E' il pericolo che cos'era? Che questo stucco potesse pian piano sbriciolarsi. Come spiega l'ingegner Lorenzo Bandelli, dirigente comunale, Palazzo Sipario ha subito una serie di cedimenti strutturali derivati sotto certi aspetti da un particolare preciso. La sala del Consiglio Comunale infatti si potrebbe definire a doppia altezza. Di fatto occupa due piani dell'edificio con una conseguenza diciamo importante sull'intera struttura. E' un grande vuoto dentro questo palazzo. Nell'altra ala, in corrispondenza, qui sopra c'è un solaio, il pavimento quindi del terzo piano e qui in mezzo ci sono dei setti, delle pareti che sono anche portanti che sostengono il solaio del secondo piano e quindi di conseguenza quello del terzo. Per ovviare a questo inconveniente, nonostante il municipio sia stato progettato con estrema cura alla fine dell'Ottocento, gli uffici dei lavori pubblici hanno portato avanti un intervento concepito specificamente che attraverso un sistema di tiranti di fatto sostiene il soffitto della sala. Questo soffitto adesso è sostanzialmente sospeso, sospeso ovviamente appoggiandosi su quelle che sono le pareti portanti del palazzo e garantisce quindi la sicurezza ovviamente dell'intero edificio, ma non eravamo in situazione pericolante, ma principalmente consente appunto di poter lasciare esposto questo meraviglioso soffitto senza che piccoli cedimenti potessero provocare lo sgrettolamento.